E' bene che stia chiuso per sempre. Perché? Perché insomma a me sembra che ci siano persone troppo tranquille. Il bar Europa è pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, per questo va richiuso. Dopo il maxi blitz della scorsa settimana a Saione, quartiere alle porte di Arezzo e il conseguente stop per il bar per motivi igienico-sanitari, arriva adesso il decreto della questura di Arezzo che impone al locale di abbassare le serranne. Il provvedimento è stato firmato ieri ed eseguito questa mattina dagli uomini della squadra mobile. Il questore di Arezzo, Bruno Failla, così disposto ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la sospensione per 30 giorni dell'esercizio. Lo scorso giovedì erano stati arrestati all'interno del locale due pusher, entrambi tunisini. Il GIP del Tribunale di Arezzo aveva poi convalidato l'arresto per i due spacciatori. E' un pericolo pubblico perché ogni notte succedono frutti, rotture di vetri, di videogioche. Le botte si prendono appunti, 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 appunti e ora di finirla. Nel corso del blitz all'interno del bar i poliziotti avevano trovato la droga nascosto ovunque, dietro una specchiera nella sala slot machine ed infine del bagno, dove uno dei due pusher si era barricato costringendo gli agenti a sfondare la porta.